Ciao, oggi voglio fare un video specifico parlando della tecarterapia, una di quelle terapie che vengono prescritte più frequentemente nell'ambito delle problematiche a livello del piede, quindi a livello per quanto riguarda la fascite plantare, la tallonite o la spina calcaneare e voglio fare questo video per informarti e spiegare quali sono le motivazioni per cui la sconsiglio in questo tipo di terapie e soprattutto voglio evitare di farti perdere tempo e soprattutto satoldi. Abbiamo raggiunto dei traguardi fantastici per quanto riguarda gli iscritti al nostro canale e se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti anche a te per non perdere tutti i video che preparo settimanalmente e soprattutto se questo video sarà di tuo gradimento mi raccomando di non scordare di mettere like. Fammi sapere qui sotto nei commenti la città da cui ci stai guardando perché ho sparsi per l'Italia alcuni colleghi molto in gamma e magari uno potrebbe fare al caso tuo proprio nella tua città. Bene, tornando al quesito iniziale posso dire che nel mio gruppo Facebook tallonite e fascite plantare che ti invito a visitare, in cui parliamo spesso di questo tipo di problematiche che do spesso anche dei consigli, noto molto frequentemente che molte persone dicono di aver fatto terapia appunto come la tecarterapia, aver speso un sacco di soldi e soltanto una piccola parte ci dice di aver avuto dei miglioramenti, la maggior parte di queste persone invece parla malissimo della tecarterapia e ci dice che effettivamente non ha avuto alcun effetto nella gestione del dolore e nell'uscire da quella che è l'impasse nella quale si trovano la maggior parte delle persone con una tallonite. Il motivo dell'insuccesso della tecarterapia è sostanzialmente legato a due o tre fattori che ora voglio discutere con te. Il primo concetto che voglio esporre è proprio legato alla tipologia di terapia fisica, mi vorranno tutti coloro che sono tecnici e cercherò di utilizzare dei termini molto semplici anche perché mi rivolgo a persone che non sono addette ai lavori. La tecarterapia è una terapia fisica per cui c'è un passaggio di energia da un manipolo attivo ad una piastra neutra. Ciò che si trova in mezzo funge da resistenza e proprio perché funge da resistenza tende a scaldare. Questo calore endogeno, quindi non è un calore esogeno, quindi che proviene dall'esterno come magari un infrarosso, è un tipo di calore che è molto efficace per quanto riguarda le strutture muscolari, quindi i ventri muscolari che tendono a rilassarsi. È molto efficace se utilizzato in una certa maniera, magari utilizzando una certa angolazione per avere un effetto drenante soprattutto in una condizione di atermia, ma è assolutamente inutile quando ci troviamo di fronte a un problema strettamente tendineo che ha un problema sostanzialmente va di tipo vascolare dove il sangue lì non arriva e le sostanze nutritive non arrivano in maniera così efficace come quando ci parliamo di un problema di natura muscolare. Sotto certi aspetti a volte avremo un drenaggio, un effetto positivo sull'edema ed ecco che appunto ci sono delle persone che dicono di avere dei miglioramenti dalla Tecar, ma sono relativamente poche rispetto alla maggioranza delle persone che fanno questa terapia calda che sembra quasi che il terapista passa un ferro da stiro su quella zona, ma che non ottengono alcun tipo di risultato su un problema di tallonite o di fascite plantare. Il secondo motivo per cui la Tecar è assolutamente inefficace è legato al fatto che un problema che si manifesta sul piede quasi mai è un problema legato proprio al piede, è molto spesso un problema multifattoriale, un problema di natura posturale molto più ampio, per cui le cause vanno ricercate a livello della colonna, molto spesso c'è un problema di non allineamento, comunque sia problematica a livello del bacino, dell'anca, del ginocchio o a livello della caviglia, magari il paziente ti racconta che ha avuto in passato degli infortuni nella caviglia come distorsioni e sostanzialmente il problema al piede è soltanto la punta dell'iceberg, quindi fare una terapia specifica soltanto su un tallone che è dolente risulta assolutamente inefficace, così come pensare di utilizzare la teca per andare a trattare e sfiammare, come alcuni per persone sento di parlare, la fascia plantare è assolutamente inutile. Questo lo dico perché il paziente perde tempo nel sottoporsi a delle terapie inutili, spende un sacco di soldi e lo fa arrabbiare ancora di più perché oltre che ha speso soldi non ha risolto il problema e l'operatore magari sta eseguendo una terapia completamente inutile e inefficace per questo tipo di patologia, capiamoci. In terza battuta, come ho già parlato nel secondo punto che ho messo in evidenza in questo video, abbiamo una problematica di natura posturale, per cui se al trattamento non si abbina anche una buona rieducazione posturale, una buona terapia che serve a riequilibrare quelle che sono le terapie, in certi casi anche l'utilizzo di un plantare, ti posso assicurare che non avremo anche qui alcun tipo di risoluzione. C'è da dire che la tecar può avere dei buoni risultati e ne ha effettivamente dei buoni risultati quando magari si fa una terapia a livello del polpaccio, quindi magari utilizziamo la tecar per andare a decontrarre la muscolatura che sta a livello del polpaccio, molto spesso troviamo dei polpacci molto rigidi e a quel punto la tecar ci ha di buon aiuto, ma inserita all'interno di un contesto globale, quindi fatto di manipolazioni, manipolazioni del piede, manipolazioni del ginocchio e della colonna, manipolazioni di tipo fasciale, quindi un trattamento fasciale a livello delle tutte le strutture che hanno perso mobilità dal punto di vista appunto della fascia, che non è la fascia plantare ma è la fascia che è un concetto molto più ampio e molto più distribuito a livello del corpo e a livello della gamba e ad esempio inserita all'interno di un contesto in cui ci sono altre terapie fisiche come magari il laser, le onde d'urto che hanno tantissime evidenze scientifiche o magari anche gli stessi ultrasuoni. La tecar inserita all'interno di un contesto come quello, andando a trattare soprattutto le strutture muscolari, beh ha un buon effetto. Se vogliamo utilizzarla per drenare magari una caviglia gonfia o magari anche le strutture che sono edematose, beh sì la tecar può essere di aiuto, ma pensare di trattare un problema come una tallonite o una fascite esclusivamente con una tecar, beh è una perdita di soldi e io lo strasconsiglio e quando mi arrivano pazienti anche con prescrizioni mediche che con questo tipo di terapia, beh io devo essere onesto e devo dire le cose come stanno, non mi piace rubare i soldi alla gente. Quindi se vai da un medico che ti fa una prescrizione e ti dice esegui 10 tecar per una fascite plantare o una tallonite, beh scappa. Se vai da un terapista che ti esegui queste terapie magari rispettando la prescrizione, perché gli è stato detto e non ti propone questo altro genere di trattamento e di terapie, anche qui scappa assolutamente. Se invece il terapista e appunto il medico decidi di inserirla all'interno di un programma riabilitativo fatto anche e soprattutto anche di esercizi, allora a quel punto si, diciamo che la tecar può esserci di aiuto e la tecar può in qualche modo darci un suo contributo. In che percentuale? Non lo so, un 10, 15, 20% può essere di aiuto, ma certamente non ho mai visto nessuno guarire da una problematica di tallonite vera esclusivamente sottoponendosi all'esito di tecarterapia. Bene, se chiaramente sei di Roma ti aspetto in uno dei nostri studi per una valutazione della tua problematica e per quindi stilare un piano riabilitativo specifico e personalizzato per la tua problematica. Se questo video è di Ducaldimento mi raccomando non scordare di mettere like e non scordare, qualora non fossi di Roma, di lasciare qui sotto la città da cui stai guardandoci perché magari posso suggerire un terapista che può svolgere lo stesso lavoro che svolgo io a Roma. Spero che questo video sia stato utile per te, mi raccomando, io ti aspetto al prossimo video. Ciao!